Ciao ragazzi, oggi ci troviamo in Playa dell'Ingles, seconda fila al mare, Avenida Italia Entriamo insieme a vedere un appartamento che offriamo in vendita Seguitemi e andiamo a vedere come è fatto Siamo entrati nell'appartamento Salone con cucina Come potete vedere l'appartamento è super luminoso Qui c'è la cucina con fuochi elettrici, il frigorifero Troviamo il microonde Andiamo subito a vedere la terrazza La terrazza va al giardino comunitario Vediamolo anche dall'altro lato E entriamo a vedere la camera da letto Qui troviamo la camera da letto con armadio a muro Ci sono due letti singoli così se uno vuole una coppia li unisce Se no se lo si affitta a due amici si possono tenere separati Troviamo l'armadio a muro con gli specchi in modo che ingrandisce un po' la camera da letto Lì ci sono le finestre e qua accanto troviamo il bagno Questo è il bagno, il bagno è finestrato Qui troviamo il termoselettrico E dall'altro lato la doccia bella spaziosa Ora ci facciamo un giro anche nella zona comunitaria che come vedete è molto verde E qui c'è la piscina C'è sia la piscina per adulti che una più piccola per i bimbi Questa è per i bambini, quella in fondo è per adulti L'edificio si trova in Avenida de Madrid Quindi seconda linea al mare Sono solamente 30 appartamenti La posizione è ottima Ragazzi come sempre se vi è piaciuto il video un bel like Iscrivetevi al canale E seguiteci per tutti gli immobili in vendita in questa zona Al prossimo video, ciao ciao